Musica Oggi siamo venuti ad incontrare una associazione, rappresentante di un'associazione che sostanzialmente si occupa di sociale. La sigla è ANAS, ma ovviamente non ha nulla a che vedere con la società delle strade italiana, ma bensì è un'associazione anch'essa di natura nazionale, ma si occupa di diverse tematiche con sfondo sociale, con sfondo legato all'occupazione. Insomma, un'associazione radicata sul territorio nazionale. E qui con me il presidente di questa associazione, il presidente in questo caso della regione Calabria, e già io a lui chiederei, spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è l'ANAS. Come no? L'associazione che mi onoro di rappresentare in Calabria si chiama ANAS Italia, è l'acronomo di associazione nazionale di azione sociale. Questa associazione nasce circa 10 anni fa in Sicilia, da lì, da Palermo, si espande in tutta Italia. Siamo arrivati ora nel 2015, l'ultimo tesseramento, ad avere quasi 406 in tutta Italia, e un tesseramento di più di 180.000 iscritti. È un'associazione che nasce, punta totalmente sulla solidarietà e sulle politiche sociali in generale. Noi nasciamo ai primi anni con la distribuzione di derrata alimentare per gli indigenti, per i poveri, poi negli anni abbiamo diversificato, tra virgolette, l'offerta, perché abbiamo ricevuto una serie di riconoscimenti dall'accreditamento al Servizio Civile Nazionale, che ci ha consentito proprio quest'anno, quindi in questi mesi sono partiti ben 132 volontari in tutta Italia, che all'interno di ANAS svincerebbe una serie di progetti all'interno del tema del sociale, delle politiche sociali. Abbiamo avuto una serie di accreditamenti al Mibbac, alla Protezione Civile. Insomma, è un'associazione, come a me piace dire, viva e vera, perché all'interno del panorama delle associazioni culturali, dove io insomma opero da più di 10 anni, ho trovato in ANAS finalmente una struttura che riesce a dare, seppur piccoli, dei risultati tangibili sul territorio. Cioè non c'è cosa più bella di quella di andare da un cittadino italiano, da una persona che è in forte difficoltà, e andare a dargli quel poco di ossigeno, darle le terrate alimentari, rincuorarlo, fargli assistenza gratuita dal punto di vista legale o in qualsiasi altro settore. Cioè non c'è cosa più bella che fare volontariato da questo punto di vista, realmente, quindi a contatto col territorio. Quindi l'attività principe è questa, ora parleremo anche di tutto. Allora, in Calabria, da quanto ci siete, insomma come siete strutturati, che tipo di pianificazione, di azione sociale fate sul territorio? Guarda, in Calabria, io sono presente dal 2012, sono entrato come presidente di una sede ANAS Zonale Locride, che è nella fascia ionica reggina, poi ho avuto l'onore di essere nominato l'anno scorso presidente regionale. In Calabria abbiamo una struttura che è quasi di 200 sedi, tra cui il nostro fiorello Locchello e la provincia di Cosenza, che conta ben 97 sedi, e poi per il resto segue Reggio Calabria, e poi ci sono le altre tre province, che comunque tutte ormai hanno un numero congruo di sedi. Noi diversifichiamo, abbiamo sedi che si occupano quasi totalmente appunto di fare volontariato, quindi questa raccolta alimentare di fronte ai supermercati, con cadenze periodiche, le cene di solidarietà. Una volta questo tipo di impegno lo faceva anche il Banco Alimentare, ecco voi avete rapporti con questo tipo di strutture? Assolutamente sì, io proprio qualche mese fa a maggio abbiamo organizzato una bellissima cena di solidarietà con più di 300 persone a Reggio Calabria, e ricordo che in quell'occasione gli organizzatori hanno dato il devoluto proprio diviso fra Telefono Amico, ANAS Italia e Banco Alimentare, quindi noi ci incontriamo spesso in questa occasione. Banco Alimentare abbiamo grande stima e rispetto perché loro sono tra l'altro su questo campo, in questo settore, da più anni di noi, però ti ripeto, la completezza della mia associazione è che comunque non guardiamo solo al settore della distribuzione delle derrade, che è comunque un settore secondo noi fondamentale, specialmente con l'intervento di questa crisi mondiale e locale in questi ultimi 3-4 anni, ma noi abbiamo diversificato perché anche il servizio civile riesce a dare delle risposte sul territorio. Ecco, questo è un tema di servizio civile, cioè negli anni scorsi, insomma, anche da qui, dalla Calabria, c'è un'organizzazione che ha organizzato sul territorio con i comuni, ecco, questo servizio civile ancora è in essere, ancora c'è la possibilità di promuovere i progetti come abbiamo conosciuto in passato, cioè come si può articolare un servizio civile nell'ambito dei comuni, delle associazioni sul territorio? Spiega un po' questo perché la gente è interessata, soprattutto i giovani. E tra l'altro è molto attuale perché, ti ripeto, i nostri volontari, i nostri 132 volontari di servizio civile sono partiti proprio con questa esperienza bellissima che durerà un anno, l'11 settembre, quindi pochi giorni fa. Noi abbiamo sviluppato e la presenza del Consiglio dei Ministri ha approvato tre progetti che sono stati Sportello Anas Informa, Informa Eventi e In Salute con lo Sport. Sostanzialmente abbiamo creato queste tre tipologie di progetti diversi e due dei tre sono a stretto contatto con le amministrazioni pubbliche perché lo Sportello Anas Informa si dedica proprio a questo servizio ai cittadini che non riescono per motivi, diciamo, anche soggio-culturali o per motivi proprio anche di ristrattezza economica di accedere a una serie di servizi che per un cittadino medio invece sono normali, sapere cosa ti spetta, i diritti che ti spettano dal punto di vista anche delle pensioni o di qualsiasi altra attività che può fare un normale sindacato padronato. Quindi con questo Sportello che attiviamo all'interno delle nostre sedi e tante volte anche in convenzione nei comuni riusciamo ad arrivare a raggiungere i cittadini per delucidarli sulle tante possibilità che potrebbero avere e non sfruttano. Poi abbiamo il secondo progetto che è quello Informa Eventi dove facciamo cassa di risonanza rispetto agli eventi che ci sono sul territorio di natura culturale, di natura ambientale, di natura anche delle tradizioni popolari. Questo serve perché tenteremo attraverso appunto la nostra rete, la rete di Anas, di fare eco rispetto magari a un piccolo evento di un piccolo comune calabrese che attraverso la nostra rete però sarà pubblicizzato magari in tutta la Calabria o anche fuori. E infine c'è quello in salute con lo sport dove andiamo attraverso i nostri volontari attivati in questo progetto a sensibilizzare la popolazione rispetto all'importanza che ha lo sport nella vita attuale di ognuno di noi. E questo lo faremo in sinergia appunto con le associazioni sportive che andremo a catalogare e a contattare sul territorio, in sinergia tra di loro e tra di loro con noi di Anas. Quindi questi sono i tre progetti che ha sviluppato la nostra associazione all'interno del grande panorama del servizio civile che come voi ben saprete conta circa 30.000 volontari in Italia. Quindi c'erano anche le altre associazioni che hanno poi i loro volontari con i loro progetti. Però ritengo che queste nostre tre idee potranno dare un piccolo risultato al territorio fermo restando che a questi 132 volontari che lo faranno con passione viene riconosciuto anche dallo Stato un rimborso spese che comunque è una boccata di ossigeno per un giovane, per un giovane studente o per un giovane che non lavora, visto che il range di età è tra 18 e 29 anni e che nel Sud specialmente probabilmente non è poco. Insomma, diverse branche diciamo, siamo proprio nella ruspanda azione culturale e sociale perché insomma si va dallo sport, insomma la solidarietà, insomma una serie di questioni. Però noi siamo in Calabria, un'organizzazione che io non mi posso esistere da diciamo in qualche modo stimolarti a diciamo a darci anche una tua valutazione dall'osservatorio in cui guardi questa regione perché proprio perché fa questo tipo di attività ha un asservatorio abbastanza diciamo ampio perché va dal mondo giovanile insomma al mondo dell'impegno sociale. Ecco, la Calabria di questo periodo sia da un lato in termini di povertà come messa dall'altro lato in termini anche di aspettative del mondo giovanile cioè sicuramente ogni giorno avrai a che fare con questo mondo fatto di giovani che insomma anche attraverso i progetti come dicevi nel servizio civile e civile escono dalla scuola eccetera eccetera però poi insomma sicuramente percepite i segnali di un'aspettativa, di un sogno, di una speranza dei nostri giovani e con una valutazione di questo tipo da parte del presidente di un'associazione così importante vorrei sentirlo. Guarda, l'idea che mi sono fatto io in questi anni di attività all'interno di ANES ma comunque anche all'interno della mia esperienza nel campo dell'associazionismo è che in Calabria al pari della povertà c'è tanta dignità. Noi abbiamo incontrato persone che hanno estreme difficoltà economiche però avevano questo imbarazzo di andare a ufficializzare questa loro posizione perché come tutti noi ben conosceremo il nostro carattere noi siamo persone che abbiamo un altissimo senso della dignità e quindi noi siamo serviti un pochettino con la nostra discrezione perché noi diciamo ai nostri volontari, ai nostri operatori, ai nostri tesserati che la prima cosa deve essere la discrezione quando andiamo a servire le famiglie quando andiamo ad incontrare questi bisognosi allora già su questo bisogna saper intervenire perché non puoi fare una distribuzione di errate alimentari per esempio in piazza o comunque anche ufficializzando a chi li dai perché io ho riscontrato effettivamente persone che preferivano, tra virgolette, rimanere nelle loro enormi difficoltà economiche pur di evitare questa pubblicità e quindi questo è un dato comunque particolare però io dico anche un'altra cosa nei giovani specialmente ho riscontrato tantissima voglia di riscatto voglia di riscatto e voglia di andare ad operarsi per gli altri e considerate che la Calabria, come tu ben dici, è una regione molto povera tra le più povere anche d'Italia però ciò non toglie che le persone sono sempre pronte e disponibili quando si tratta di darsi da fare per gli altri un esempio proprio di qualche mese fa è stato che noi il 20 maggio abbiamo partecipato a un'udienza papale di fronte al Papa Francesco e abbiamo organizzato un giornata dal tema Un pane per il Papa in questo contesto di questa giornata abbiamo coinvolto molti panifici di tutta la Calabria da Castrovillare, diciamo a Reggio Calabria però su Platì, che è un comune della Locri che è comunque dilaniato da una serie anche di eventi passati insomma, sempre noto alle croniche, purtroppo per eventi negativi abbiamo coinvolto tutti i panifici che hanno regalato 3.300 pani che abbiamo distribuito quel giorno, in quell'occasione a Roma è stato un evento molto bello che ci ha dato una soddisfazione per dimostrare che la Calabria non è solo quella delle cose negative ma la Calabria ha anche tanta disponibilità tanta voglia di partecipare a una giornata di gioia di festa come è stata quella io apprezzo tantissimo quando incontro la stampa o l'informazione faccio risaltare questi momenti perché è giusto dare anche pubblicità delle cose positive che avvengono sul nostro territorio insomma questo è importante questa cosa che dici perché è figurato che c'era un gruppo di giornalisti che stava pensando diciamo ad istituire un'agenzia in Calabria di informazione del bello nel senso che le agenzie quando si parla della Calabria sono agenzie che sono bollettine di guerra purtroppo sì insomma le litigiosità politiche gli omicidi l'andrangheta l'andrangheta che ha conquistato il nord e che poi rappresentano uno spaccato sociale di una minoranza della nostra parziale di una parziale grande terra oscurando diciamo ecco la dignità di cui parlava il presidente dei calabresi anche rispetto a una situazione di oggettiva indigenza ma a quello che sono eccellenze imprenditoriali turistiche ecco questa cosa che viene da una organizzazione sociale che comunque ogni giorno sfiora diciamo le cose più dure l'indigenza non è la realtà dell'indigenza vederla ogni giorno ci vuole grande forza e motivazione per non abbattersi anche per chi la fa e si riempie la vita anche della solidarietà il presidente accennava questa visita dal Santo Padre per questa giornata e mi pare che qui a fianco a me c'è Raffaele Fimiano che insomma presiede sovraintenda l'associazione a livello della provincia di Catanzaro sostanzialmente che in quella giornata l'ha vissuta da protagonista o sbaglio? Sì quel giorno è stato un evento bellissimo la calabra ha dimostrato attraverso questo momento di voler riscattarsi noi in un modo abbiamo voluto dimostrare che esiste una calabra viva che potrebbe riscattare tutto il nostro territorio e noi a nostre spese con le nostre risorse e in modo da semplici volontari abbiamo voluto fare questo momento che è stato un momento sia sotto l'aspetto di spiritualità sia sotto l'aspetto anche di di aver fatto un momento di vicinanza verso le fasci deboli per dimostrare la bellezza come ha detto il presidente regionale di dare un segno della calabra positiva con questo dono dei panni di platì e di tutta la calabra ma anche è stato un momento in cui si è parlato del ruolo della famiglia e delle istituzioni il Papa ha voluto dedicare il 20 di maggio la giornata alla messa l'ha voluta dedicare al ruolo delle famiglie e delle istituzioni dalla calabra sono partiti circa 1500 persone quindi un numero considerevole 5000 eravamo di tutta l'Italia di tutta l'associazione ci hanno dedicato una zona riservata solo a noi per quella giornata e la calabra ha dimostrato di essere quando vuole di poter riscattarsi di dare un atto di forza anche di orgoglio e di avere una ripercussione un effetto positivo oltre i nostri territori è un modo di fare associazionismo facendo l'associazionismo di fatto con la politica dei fatti non a caso in Calabria ci sono 200 sedi accreditate stiamo espandendoci in ogni città principale abbiamo da poco aperto anche la mezza termine la terza città più grande della Calabria stiamo muovendoci in tutto il territorio stiamo crescendo giorno per giorno nel solco di una positività e stando vicino alla gente e facendo un associazionismo con i fatti e con i risultati anche nello stile ha parlato prima del progetto servizio civile noi non facciamo i progetti i soliti progetti vogliamo fare dei progetti particolari una diversificazione essendo che c'è un mondo dell'associazionismo ci sono molte associazioni riconosciute a livello nazionale noi vogliamo diversificarci per riuscire ad avere un appeal migliore un appeal più forte nel territorio con un'innovazione con delle novità facendo anche delle azioni che potrebbero dimostrare che c'è una consuetendenza e non essere ripetitivi come gli altri cioè tentare di fare qualche cosa di nuovo mi pare che anche Femiano è stato diciamo abbastanza esaustivo noi siamo abbiamo consumato questi minuti l'abbiamo consumato anche velocemente perché gli argomenti sono forti e stimolano poi alla discussione perché io vorrei insomma affidare al Presidente anche una sua riflessione conclusiva condendola diciamo un po' con un ulteriore elemento di approfondimento siamo in un'epoca dove praticamente per esempio la politica è in crollo verticale nell'interesse della gente cioè la forma dell'associazionismo politico è andato scemando il crollo delle ideologie insomma la scarsa fiducia nei partiti insomma tutto questo tutto ciò però ha coinciso ecco con un boom della partecipazione al mondo dell'associazionismo il mondo dell'associazionismo italiano quello calabrese anche molto florido cioè c'è tanta gente che volontariamente gratuitamente si vuole impegnare in qualcosa da Presidente di un'associazione come questa ormai abbastanza grande sul territorio regionale pensa che questa percezione è vera sì concordo perché la delusione ormai nella politica e nei partiti è diffusa in tutte le categorie non è solo nei giovani una volta si diceva che i giovani non andavano a votare non c'è categoria che sia più contente di questo contesto politico attuale e noi diciamo con forza e con chiarezza che la nostra associazione non possiamo dire che ha politica perché secondo me qualsiasi scelta che una persona fa il giorno anche all'interno della sua famiglia del suo lavoro come si comporta fa politica fa un'azione politica però siamo fieramente apartidici probabilmente questo non mi stanco mai di dirlo c'è costato lo scotto in questi anni perché una serie di accreditamenti che noi abbiamo ottenuto con fatica seppur avendo i documenti alla perfezione probabilmente scontavamo il fatto di non avere lo sponsor però va bene così perché con le nostre forze siamo riusciti ad arrivare liberi ad avere comunque sul territorio una forza una serie di riconoscimenti che erano quelli che umilmente ci spettavano quindi politici ma partidici questo è fondamentale e tra l'altro come giustamente dicevi tu è normale che le persone si avvicinano a un'associazione più che a un partito se il partito ormai è diventato ormai sono i partiti della menzogna promettono e non mantengono invece le associazioni non promettono nulla ma giornalmente con i fatti anche seppur piccoli diamo sempre piccole risposte su territori è una cosa fisiologica che le persone preferiscono fare un percorso che comunque non è legato a nessuna bandiera perché purtroppo come tu hai detto non ci sono più le ideologie ben tornassero le ideologie in questo momento ci sono solo le bandiere che comunque hanno a volte respiri di mesi neanche di anni e quindi è normale che l'associazionismo in questo momento per noi è un carico di responsabilità tant'è vero che io in questi mesi di presidenza regionale sicuramente non a Cosenza dove la provincia di Cosenza brilla perché il mio vicepresidente regionale che è anche il presidente provinciale di Cosenza il dottore Pino Lufrano sta facendo un ottimo lavoro non ha bisogno di consigli però in alcune province come per esempio su Crotone c'è Francesco Campisi che a breve sarà il nostro commissario provinciale a Crotone faremo un restyling totale anche all'interno della nostra associazione per metterci al tempo e al passo con le esigenze dei territori quindi anche da noi se non vanno bene le cose noi andiamo a rinnovare e a ristrutturare Raffaele su Vibbe Catanzaro sta facendo un buon lavoro nella provincia di Reggio Calabria che è la provincia di mia provenienza abbiamo circa 50 sedi quindi va bene pure però abbiamo un carico di responsabilità perché effettivamente stanno arrivando da noi persone che fino a ieri erano impegnate in politica hanno avuto anche ruoli hanno detto guarda a me mi interessa continuare a fare politica per i cittadini non più con un partito ma con un'associazione invece che sia slegata da logiche che sono assistenziali rispetto ai posti di potere non assistenziali rispetto a chi ha realmente bisogno quindi questo ha incentrato il problema e noi insomma siamo qui per fare la nostra parte speriamo farla bene bene il tempo a nostra disposizione è finito come diciamo avrà rilevato il nostro Francesco dall'altra parte della Camera ma è stata una bella discussione abbiamo conosciuto uno spaccato di associazionismo che siamo convinti sarà destinato a crescere perché effettivamente propone un campo di intervento e di impegno sociale diverso diciamo dalla genericità spesso che sviluppano alcune associazioni l'associazione il presidente e coloro che oggi rappresentano questa associazione sono determinati e quindi carichi anche idealmente del loro impegno noi auguriamo loro tutto l'impegno possibile tutta la fortuna affinché questa associazione insomma possa radicarsi sempre di più e possa far sentire a far parlare di sé per le cose buone che farà su questo nostro territorio e noi come sempre diciamo quando c'è una pietra positiva che poggi sul pavimento sulle basi di questa nostra regione che ha tanto bisogno di esempi più che diciamo opere come dire materiali gli esempi sono fondamentali e noi benvengano noi gli daremo voce gli daremo diciamo la possibilità di avere visibilità perché è giusto che sia così perché proietteremo un'altra Calabria e qui insieme ai nostri ospiti rappresentanti di ANES l'inviato speciale vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime puntate arrivederci a l'inviato speciale Grazie a tutti.